San Siro, Pisa in vantaggio sull'Internazionale per una rete a zero, a un minuto dal termine del primo tempo assegnato a Armenig. Attenzione, chiedo scusa anch'io da San Siro, l'Internazionale ha pareggiato colpo di testa di Bergomi, colpo di testa vincente al decimo minuto, quindi Internazionale 1, Pisa 1, a te Sandro. Al termine, chi deve intervenire? Interviene San Siro perché l'Internazionale si è portata in vantaggio 2-1, il gol lo ha segnato Rummenig, di testa su assist di Bredi. A te Robertione Ameri qui da Milano, Internazionale 3, Pisa 1, ancora Rummenig con un gran tiro su passaggio di Marangolo.